Buongiorno, sono Alessandro Russo, docente di lettere. Il mio messaggio è breve, spero è articolato e abbastanza spontaneo come le cose che vengono dal cuore e quindi dall'anima. Il mio messaggio è per le vecchie generazioni, per le nostre nonne, i nostri nonni, le nostre mamme, i nostri padri e soprattutto le ragazze e i ragazzi che vanno formandosi di guardare ad oggi e al domani essendo certi o quasi che solo la cultura può dare un senso e una prospettiva alla meravigliosa terra di Calabria. Grazie a tutti!